Venerdì 8 marzo, un'occasione della giornata internazionale della donna, il Teatro Dal Verme di Milano ha ospitato il ritorno del Premio Internazionale di Poesia in Lingua Sarda, un'iniziativa che non si teneva dal 2008. Promosso dal Centro Sociale e Culturale Sardo della città lombarda, con il supporto della Federazione Associazioni Sarde in Italia e il patrocinio del Municipio 1 e del Comune di Milano, il concorso ha visto la partecipazione di 137 poeti. Il premio è stato attribuito ad Anna Cristina Serra per la poesia Crapi Teddas, sotto la giuria presieduta dal professor Simone Pisano. La serata è stata anche un'occasione per rendere omaggio a Maria Carta, a 30 anni dalla sua scomparsa, celebrando il suo contributo alla poesia con la recente traduzione in sardo di una selezione dei suoi versi Canto Rituale, una selezione delle poesie di Maria Carta pubblicate nel 1975 in italiano e tradotte ora in sardo da Clara Farina. La fondazione Maria Carta, presiduta da Leonardo Marras, ha sottolineato l'importanza della poesia sarda come elemento cardine dell'identità isolana e ha curato i momenti musicali della storata, che ha visto la partecipazione della cantante Maria Giovanna Cherchi, del duo Fanta Folk, dei Tazenda in versione trio acustico. Oltre all'ensemble classica trio, una grande partecipazione di pubblico ha testimoniato il successo della manifestazione che ha unito poesia, musica e la promozione della lingua e cultura sarda a Milano. Pellinton è un Deo Nuttino